Bella ragazzi, c'è mi grazie, siamo tornati con un nuovo episodio di Rotti di Show One e come vedete oggi abbiamo bisogno di un'impresa cioè oggi, da oggi fino a domenica abbiamo bisogno di un'impresa perché dobbiamo vincerle tutte dobbiamo fare 9 punti se vogliamo andare in sesta e vi diciamo che se l'impresa riesce e dobbiamo fare 2 punti se non vogliamo retrocedere ok, quindi se l'impresa riesce facciamo un episodio speciale che escerà lunedì di tutta la divisione 6 se riesce quindi tutti attifare i vecchi trapani questo pure c'ha lo stemmer trapani c'ha lo stemmer trapani pure lui ma davvero è un vecchio trapano anche lui ho 41 d'intesa, forse potremmo c'era pure in due stavolta tutto in prestito poi comunque no ragazzi giochiamo un tempo per uno perché dobbiamo fare l'impresa dobbiamo vincere tutte e tre quindi un tempo per uno e via il detegno si è rotto Dumbia non se ne rega un cazzo se scartacore è lui, Dumbia, Dumbia Dumbia fuori non ci voglio crede quadrato questo è già quadrato il basso ah ecco come cerchiato di divisione 7 quadrato quadrato ancora via sta palla capito come è arrivato sì quadrato intanto spegne quattro ora se ne va però Gervinio Gervinio Dumbia non era scattato però prende palla comunque e tenta il tiro no? giusto e spallate quanto le odio cioè che è David Luiz è quello sì che vuole guarda te eh guarda te sbaglia ora Hulk song per habibu cazzo ma ti vuoi chiamare song I don't wanna be oh habibu 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 abcdf 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 e lo tira boom no non è possibile no perchè non entrano queste cose all'altro entrano sempre oh mio mi sta venendo il panico il panico gli sta venendo olè rigore? si metto il panico gli sta venendo olè metto eh quadrato e da escursione qua però eh che eri così figlio mi dà la squadra Juan Gesù sta la battuta cambia 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 oh porco tu e ma te se ma davvero vaffanculo no vaffanculo no vaffanculo porco tu e ma così non pote sempre per fare ste cazzate ci siamo riusciti un'altra volta dagli cazzo sta tranquillo no non sta tranquillo perchè non pensai che non sta cosa ti cancella quello che hai fatto prima no no c'entra niente perchè sto a cazzeggiare no non sto a cazzeggiare no non sto a cazzeggiare vaffanculo fallo oh lei buca la porta Musa Musa Hulk che nomi biblici c'è tutti nomi biblici capito che Hulk è un nome biblico ma tutto fallo Hulk lo fai lo fai lo fai no dai che mattina che culo davidurizzo come sempre sta un attacco come c'è sta divesa eh lo mamma mia le colla la serie a no vabbè scherzo ma te che ma mi ha fatto lui il fallo vabbè ma serio se butta la ma non la prende cioè ma serio ma tu cazzo è passata fai che non pareggi guarda perchè sennò veramente non è un attimo di sofferenza sappiamo che con un pareggio finirebbe tutto il sogno guarda 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 oh è un genio è segreto è un gioco questi cazzo è potente BONU è entrata è entrata è entrata è gol ma che cazzo stai addisci è ma davvero si vabbè ragazzi la prima andata io pensavo fosse fuori gioco e questo ci ho tirato non è vero che è andata la prima non è andata è andata è la prima andata 3 a 0 perchè no 3 a 1 3 a 1 3 a 1 non ho scordato il rigore quindi mancano solo due partite due vittorie due vittorie per salire yes rimanete qui perchè questo è il momento più importante della stagione tra l'altro tutti i tifosi per noi tutto lo stadio proprio tutti i trapani tutti i trapani chissà perchè vabbè perchè siamo trapani dai gran alas è tutto bella bella non 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 non